Dalla biblioteca di Bertinoro, fanzinoteca d'Italia, presenta il grande disegnatore di Forlì, Davide Fabri, che disegna in diretta per noi un personaggio di Guerre Stellari. Davide Fabri disegna la principessa Leila. Grazie a tutti. Sì, ma io c'è mia fine che patina, lo fa il paginato. No, se te l'ho detto, siccome facevi le foto, ho detto vuoi vedere che deve fare qualche tavola che c'è i patinatori. Mi ho detto che hai fatto il buco, manca miseria. Ho fatto il buco. No, ma ci stanno, non ti preoccupare. Oh miseria. Beh, è bellissimo. Beh, è originale, dai. C'è un po' di naso adesivo qua dietro. No, ce la va a fare. Ciao, tengo qua il dito perché se non si monto sopra di nuovo. Va bene questo? Vabbè, qua. Vediamo la messa di una pezza indiretta. Guarda, questo video è il topo la messa della pezza. Ah, guarda, assolutamente. Un po', straordinario. Chi ce l'aspettava? Guarda, ma la messa di una pezza indiretta. Oh, mai vinti tu dei cosi così presi proprio dalla cazzo, no? Eh già. C'è proprio un filmato di M, guarda. Però magari piace, perché è proprio genuino. Sì, sono anche disegni di fare un altro sonoro. No, no, però l'altro sonoro, non sento le imprecazioni, te umiliacchi che urla ai ragazzi. Dopo che non ti rimandano più le mamme a fare il coso. Ma è così che si fa. È così che si vede. Ti consiglio una cosa. Dimmi tutto. No, di compri il video, di farne due. Uno fatto veloce. Ah, uno velocizzato, uno rallentato. Ha qualche dati che posso fare. Ah, guarda, non c'è la carta, la sto massacrando. Guarda, un'altra volta. Vai, vai, metti ancora, via. Non ne è adatta, via. Non ce la fa più. Ho perso la mano. Il mister Fabri in diretta che perse la mano all'improvviso. Non lo tiene più. Cioè, quando disegnano... Dovete passare al digitale perché gli viene la mano sfondafogli. Sì, magari. L'ho detto che io... Dovete comprare una Wacom. Ma quando fai questa parte? Lo fai proprio all'allentatore. No, no, con un paio di mila euro ti prendi quella a 24 pollici. Io parlo di quella bella. Ho visto un ragazzo che ha fatto l'unboxing che l'ha appena comprata. Guarda che la ruoti tutta. Vabbè, dai. Massimo. Scusa, Davide, io normalmente... Per la possibilità di inserire l'evento, molto del lavoro realizzato, più o meno, più o meno, più o meno. Quindi, per te. Poi, posso fare il filmato finale? Posso fare il filmato finale? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.